Allora ragazzi, intanto che arrivano i primi, io vorrei capire chi sarà l'uomo così romantico che aprirà le danze questa sera. Adesso stanno ricombrando gli ultimi tavoli e preparatevi i tavoli, lì sarà l'uomo romantico che aprirà le danze questa sera. Non vi preoccupate, stiamo facendo la pista da ballo ragazzi. Tranquillo, non disperdimenti. Qualcuno si è andato a fare. Allora, vediamo un po' ragazzi, chi aprirà le danze questa sera. Vediamo, vediamo. Allora, 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 vediamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo pronti, vediamo quanto si è andato. Vedi la borsa. Ci vuoi? Vai. Tutti, tutti. Qua è la borsa? La vedete, sono le borsa. Ah, ok. Le vedi, sono le borsa. Mi ha nepporti qui. 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 All'inclusione. Grazie a tutti.